La decisione è che la prossima è 10 giorni del Departamento di Arbeid e Ondersluccio che sarà. Il motivo di questa cosa è che dopo di un rapporto che vorrei preparare da SVB, da DTI, da DOA e da compagnia, che hanno un certo studio che arriva e un olore desagradabile che ci hanno. Ma ci sono certi simplici di aereo per cui si tratta dei Departamenti di Arbeid e il risultato che prende in primo istante a declarare edifici clean, limpi, che rendono un po' di volo e becchi, da un momento questo è che ci sono derivati da WIPS e da PIERNA. Una quantità di massimo di 5 lavoratori del Departamento di Arbeid hanno sentito un certo sintomo di rash e un certo aspetto di allergia. Per questo motivo, nella nostra vista, nel primo istante, il nostro desagradabile è difficile stare completamente clare nel momento in cui è arrivato in 30 anni e continuare a lavorare in anno del Departamento. La parte di noi è arrivato in cui è arrivato in diventare, è difficile trovare un'operativa. trovi. Mentre tanto, lo che mi posso menzionare così, è che il servizio con il Departamento di Labor, tanto il Departamento di Labor come Dimas sta offrendo alla nostra comunità che da guardare così di un differente edificio che finisce a funzionare nel momento che ci sarà. Mi sembra lamentare, naturalmente, che il edificio non è optimalmente per brindare servizio alla nostra comunità e anche per una protezione tra i doni, però non sta facendo esferso una grande, facendo a noi per concluire il capítulo qui, con un edificio nuovo, reanudato con, primamente, anteriore, una challa house con un edificio che c'è una candela, un edificio con una ruina del centro di città aguarda così una reconstruzione, una renovazione di edificio, ha ben alcun aspecto di mal rollo con la chieda del edificio, però, mentre stante, 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 ora lo resolvi, però, ora qui ti ha alcun aspecto, anche, di alergia, non c'è la trattata donna da sinti e, mentre stante, stante, non lo resolvi, non si pide, ora, durante 10 giorni passare in edificio, qui, po' guardare, stante, e, mentre stante, servizio non è continuare in un altro departamento. però.